Nel quartiere di Rosciano a Fano c'è una rotatoria che per attraversarla è un terno all'otto. Stiamo parlando della rotonda realizzata in occasione delle opere compensative in via Valeria Moriconi posizionata davanti al sottopasso autostradale. Nei giorni scorsi gli abitanti ci hanno segnalato la pericolosità di questo tratto stradale a causa della poca visibilità causata dalle barriere antirumore e dall'eccessiva velocità delle auto. Infatti come ci spiegano e come riportiamo anche da questa grafica auto, moto o mezzi pesanti che provengono dalla Flaminia verso il Codma non accenano a diminuire il passo una volta arrivati a Rondò mettendo a rischio e pericolo gli utenti in arrivo dal centro di Rosciano che per appunto alla mancata visibilità devono addentrarsi nella rotatoria. È importante fare subito qualcosa hanno detto prima che succeda l'irreparabile. Questa è la seconda volta che evidenziamo questo pericolo e ancora non c'è nulla di fatto. Praticamente chi arriva da monte verso mare arriva alla rotatoria completamente cieca e attraversando potrebbe succedere qualsiasi pericolo. Perciò noi per l'ennesima volta stiamo rivendicando che qualcuno almeno ci ascolti e passi ai fatti per rendere questa rotatoria diciamo più fluibile e meno pericolosa per i cittadini di Rosciano e anche gli altri. Questo pezzo di strada ad alto scorrimento non è munito neanche di attraversamenti pedonali. Forte il messaggio dei residenti che nonostante email e segnalazioni inviate al comune non hanno ricevuto risposta. Secondo voi quali potrebbero essere alcune soluzioni? Uno tra questi potrebbe essere quello di togliere la parte coperta dell'angolo sulla strada che dà verso Rosciano. Diciamo che questo è il punto più pericoloso anche perché non avendo visibilità più volte è capitato a me lo stesso di vedere queste macchine che sfrecciano senza guardare nessun tipo di cartello e ci troviamo a fare delle frenate e ci ritroviamo in mezzo alla rotatoria quindi è molto facile che nel breve insomma possa succedere qualcosa. Questo problema è anche un problema molto gravoso anche perché questa strada è molto frequentata anche dai bambini che si dirigono verso il centro della città per andare a scuola quindi con biciclette. A denunciare questo tratto pericoloso è anche Stefano Pollegioni che nei mesi scorsi ha già inviato una lettera di segnalazione al sindaco di Fano e al prefetto di Pesare Orbino. Noi non sappiamo la bretella di via Moriconi e se di chi è la proprietà e chi è la responsabilità perché questa strada ha una storia doveva essere terminata dopodiché collaudata dopodiché dalla società autostrade doveva passare di proprietà al comune quindi ad oggi non sappiamo quello che è stato fatto sappiamo soltanto che c'è un grande pericolo in questa rotatoria i cittadini si sono lamentati e lamentano da tanto tempo io sono intervenuto il mese di maggio con una segnalazione in posta elettronica certificata al sindaco ho informato il prefetto ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta vorrei dire a chi è responsabile comunque sia che qui devono intervenire anche perché se succede un guaio grosso e irreparabile anche quello che è la mia segnalazione diventa poi una denuncia questo è chiaro quindi noi stiamo aspettando di avere risposte da chi è responsabile di questa strada stiamo aspettando di avere risposte che è giusto che vengano date ai cittadini che ogni giorno in questo incrocio rischiano dei pericoli stiamo aspettando di avere risposte che vengano